Sto scrivendo un racconto di vampiri ambientato a San Francisco alla metà degli anni Sessanta. Il protagonista è un giovane motociclista degli Als Angels di Oakland, ma vorrei che nel racconto riaffiorasse qualche frammento della sua infanzia. Mi piace pensare che sia cresciuto in campagna. La valle del fiume Salinas, nella contea di Monterey, mi sembra il posto giusto. Non è una valle qualsiasi, è la valle dell'Eden, dove Steinbeck ambientò il suo celebre romanzo. A centro Steinbeck di Salinas squillano le trombe di un matrimonio messicano e ci si prepara a celebrare Christopher Paolini. Vabbè, lascio riposare in pace John Steinbeck e vado ad esplorare la valle. Nei campi oggi lavorano gli immigrati messicani. Nei racconti, nei film e nelle pièce teatrali degli anni Cinquanta, gli immigrati avevano nomi dell'Est Europa, come il famoso Kowalski, interpretato da Marlon Brando. Il mio protagonista lo chiamerò Laszlo. Ci sono molte fattorie abbandonate. Lo erano già a metà degli anni Sessanta, quando la gente scappava dalla provincia verso le grandi metropoli. Una sosta alla missione di Soledad, che sembra la scenografia ideale per uno spaghetti western. Può sembrare strano cominciare da qui una storia di vampiri, ma in fondo è proprio nell'Eden che si nasconde il serpente. Torno a San Francisco e la trovo immersa in una nuvola di foschia, densa e spessa come fumo stagnante. Chissà, forse si sono addormentati tutti in una coltre soporifera. Uno spunto interessante, prendo nota. Prima tappa, il quartiere di Haight Ashbury. Rendo omaggio alla Trimurti del Rock, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jerry Garcia. Il quartiere, nella seconda metà degli anni Sessanta, era la patria degli hippies e del movimento underground. Oggi ne esibisce la memoria con sfacciataggini a bottegaia. Mentre sfilano pullman di anziani turisti in cerca di folklore ed epoca, ripenso ai vecchi film 8 mm, girati per le strade del quartiere alla fine dei Sessanta. Esempi di una vita libera, divertente, semplice e colorata che i giovani di tutto il mondo invidiavano. Come mai gli hippies si installarono proprio qui ad Haight Ashbury? Cosa aveva di tanto speciale questo quartiere? Lo chiedo a Boots Agston, che all'epoca era un musicista molto attivo e oggi dirige l'etichetta discografica e di video a B1 Records. A Haight Ashbury è un unico spot perché le renti sono davvero cheapo e c'era una piccola parte della città che molti studenti stavano vivendo in perché c'era un'attività. E le quartiere erano grandi. Ci sono tre, due, tre, quattro quartiere che sono common. Quindi, loro potrebbero vivere e pagare $100 a month e tre ragazze a pagare $30 a month. È un'attività. E' un'attività di cui è un'attività in Haight Ashbury. È anche perché è vicino a Golden Gate Park. And when we did free events, we needed a place for the bands to play. So they would play in Golden Gate Park. Boots fu anche tra gli organizzatori della prima Summer of Love. Summer of Love was actually the whole summer. Then through the whole rest of that year there was all sorts of events and Haight Ashbury just basically went off. You know, people came from all over everywhere. And through that whole summer they called Summer of Love. That happened in 1967. At the time I was a musician played in a band called Womb and Om. and I wanted my band to play. The reason why the whole way to Haight Ashbury happened to begin with is because everybody rebelled and there was a huge generation of people. And when they did, it went off. You know, instead of being, you know, two, three thousand, it was a hundred thousand people that showed up. I mean, it was huge. Quasi tutto il mio racconto sarà ambientato a Dave Ashbury. Il mio vampiro si chiama Sebastian e devo cercargli una casa. All'angolo con il Buena Vista Park sorge una ricca residenza, tutta nera, ma ha il difetto di attirare troppo l'attenzione. Ai vampiri non piace dare nell'occhio. All'angolo opposto ce n'è un'altra, anch'essa ad epoca, alta e stretta, allungata sulla strada come una lama. Gode di una vista del parco, meta di passeggiate, di fumate e di amori giovanieri. Mi stuzzica l'idea che Sebastian, un vampiro che ha più di un secolo di vita, se ne resti chiuso in casa a spiare dai vetri quei giovani stravaganti, i loro bizzari vestiti, le loro abitudini e che trovi tutto incomprensibile. Sì, mi sembra proprio la casa giusta. Magari ci aggiungerò qualche dettaglio sinistro. Ecco, ad esempio, delle finestre a ragnatela o a gabbia che rendano l'idea più che dell'isolamento della prigionia. Il 14 gennaio del 1967, Allen Gisberg, alcuni circoli buddhisti locali, partecipavano all'alba in questo parco che è il Golden Gate Park e esattamente qui al campo d'Apolo a un Pradakshina, un cerimoniale buddista che è una sorta di girotondo intorno al vuoto concepito anche come un centro spirituale. Però il cerimoniale non inizia neppure perché quando arrivarono all'alba sul campo trovarono sui recinti appesi degli avanzi di macelleria. Una provocazione di cui non si scoprirono mai gli autori fece molto scalpore in quei giorni. Si suppose fossero i primi vagiti dei gruppi satanisti che in quell'anno avevano fondato la chiesa di Satana qui a San Francisco, il gruppo di Anton Lavei. Si dice che per qualche mese fu con loro anche Charles Manson. Resta il fatto che il satanismo sul movimento underground di quegli anni ebbe nessuna importanza, un ruolo assolutamente irrilevante marginale. Anton Lavei Lavei è l'hate. E' stato messo questi due principali e non mi piaceva. I thought it was pretty ridiculous Yeah Manson was around I met Charlie a couple times He was strange He wasn't a very good looking guy He was kind of scrawny Kind of low trash Trailer park kind of guy Women liked this guy And I could never really figure out why Personally I mean I thought the guy was creepy as hell I mean he used to take acid And he was very weird And kind of strange You know very manipulative When you talk to him You know never got a straight look in the eye You know you'd look in the eye And immediately he would shift off I met him twice Actually three times And each time it was a bad incident I just didn't like it But he was a very strange guy And for some reason the ladies liked him I don't know I can't tell you why It was a weird situation